Hanno lo stesso cognome, hanno sbagliato a scrivere. No, sono sorrelle. Che interpretano Carlotta e Christine Daé Daé, è francese. Daé, daé. Il fantasma dell'opera! Il pubblico vi vuoi Vogliamo Voi E prima La volta Ma 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 Cristina Daé Tornerà Da voi Io sono ansioso Che lei canti Per me E qui Il fantasma dell'opera La tua parte è muta, piccolo rospo Un rospo, madame? Forse siete voi un rospo Sedate tutti Maestro da capo Per favore Signore e signori Vi chiediamo scusa E il ruolo Sarà interpretato La madame la tua parte è Tu pensami Vorrei scordarti Ma non potrò mai Rimpiangerai tutte le cose che Tu non hai fatto insieme a me Ogni ora che vivrò Io penserò A tutti Anzi Grazie.